Musica Ma tutti fatti i panini qui? Perché non vedo l'ora di mangiare qualsiasi cosa focace? Noi siamo in realtà per quello all'interno del programma parliamo sempre di quanto a noi il cibo proprio non piaccia e quindi no, esatto, al contrario Ragazzi do il via, 3, 2, 1, via la gara! Abbiamo visto partecipanti sempre più preparati, ricette sempre più ricercate E' stato bello vedere l'emozione nelle persone E' stato bello vedere l'emozione Magnifici, otto!